L'inferno in città, e questa è la definizione più calzante per l'ex stazione teleferica di Barletta sulla Litoriana di Ponente, oggi diventato un luogo di rifugio per usare un eufemismo per migranti e senza fissa dimora, dove un anno fa Hamed, bracciante di 47 anni, è stato ucciso dal freddo, dalla solitudine e dalla miseria. Un viaggio in un inferno urbano formato da coperte abbandonate, rifiuti di ogni genere, materassi perletti improvvisati e teloni di plastica da usare come estrema razza per sopravvivere al freddo dell'inverno. A distanza di un anno dalla morte per stenti del migrante, la situazione oggi è ancora la stessa. Gli ultimi della società quindi resteranno sempre abbandonati al loro destino. Noi qui siamo all'inferno, questa è la parola adatta per questo posto, un inferno qui a Barletta sulla Litoriana di Ponente e questo è il posto in cui, come potete vedere, vengono a rifugiarsi tutte quelle persone migranti che lavorano nelle nostre campagne, che lavorano nelle campagne di Barletta, Trani e del nostro territorio e vi lavorano per quattro soldi, molto spesso a nero. E questo è quello che la nostra comunità invece ricambia, perché loro vengono qui, contribuiscono enormemente alla nostra economia, specialmente quella agricola e noi in cambio gli offriamo questo posto, perché qua è il posto dove vengono a cercare un po' di rifugio al freddo, sotto l'acqua. Questo è il posto in cui un anno fa una persona di loro, Ahmed Saki, è morta di freddo. Questo è il posto che la comunità riesce ad offrire loro ed è un posto assolutamente vergognoso. Questo è l'inferno in terra, come potete vedere. Un faro su questo luogo di disperazione è stato acceso dall'ambulatorio popolare, che insieme alla rete delle associazioni ha organizzato una manifestazione per chiedere all'amministrazione comunale di intervenire urgentemente per pulire l'area e fornire un alloggio alle persone che vengono sotto il ponte dell'extrazione teleferica a cercare un rifugio per la notte. Nella fattispecie di questa zona è evidente il degrado, avete visto le immagini. Quello che chiediamo è innanzitutto di intervenire e di bonificare questa zona e poi di dare una sistemazione a questa gente, perché questa è gente che fa parte della nostra comunità, senza creare differenze né di razza né di religione e di nulla. Siamo tutti uguali, la povertà purtroppo sta prendendo tutti. Obiettivo quindi portare via dall'inferno chi non ha un posto dove andare, verse in condizioni di povertà estreme, situazione che purtroppo interessa sempre più cittadini barlettani. Anche la Caritas infatti regista un incremento dei frutturi locali nelle proprie mense che offrono un pasto a chi non può permettersi neanche quello. Persone in questo modo non possono vivere e una comunità civile non lo può consentire. Quindi l'appello a tutta la comunità, a tutte le persone, cittadine, cittadini di aiutarci in questo appello, di venire alla manifestazione perché persone in questo modo non possono più vivere.